Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale, io sono Magnus abbiamo trovato, diciamo più o meno, maschera nera e abbiamo saputo dell'esistenza di Joker questa cosa mi entusiasma tantissimo perché il fatto di ancora non sapere chi sia Joker lo so, mi fa un po' strano naturalmente qua sono due video come se mette un po' in su per commetto, un bel idaccio siamo sempre qui su Batman Arkham Origins dobbiamo praticamente prendere il detonatore a concussione nella Batcaverna quindi dobbiamo uscire qua siamo stati bene, abbiamo analizzato bene qua posso uscire da qua, no? no, non ci fa uscire, vabbè quindi riusciamo da dove siamo rientrati Batman da questa parte credo sì, no, che è qua? ah ok ok, non so già se dobbiamo andare da questa parte oppure no vabbè, usciamo perché sennò qua non capiamo più una mazza anche se dobbiamo ritornare come già vi ho detto alla Batcaverna e forse lì Alfred ci illuminerà aspettate che non ho capito una cosa c'è una cosa strana ma a scienza io la posso prendere? no, ma manco per niente vabbè esco di qua aspetta e tu ci vuoi far vedere come si attacca questo? ma che ci faceva questo qua tutto assolo? vabbè forse ci volevano far capire come si fa l'attacco con lo scudo beh ok, break a canale, break al canale come è che la radio funziona male? lo so, eh eh, grazie e si ricordi che usandolo al posto dei pugni infliggerà danni meno permanenti tra i poliziotti e i dipendenti pubblici ho capito ok, tavolo di lavoro qual è il tavolo di lavoro? questo penso sia il tavolo di lavoro eh l'hai lasciato qua? eh no vediamo un po' forse magari sta qua giù vuoi vedere quello? guarda ok perché mi rendi davvero difficile? Alfred ok ok, acquisisci il donatore a conquistazione della battica caverna perfetto quindi questo accedi ai server della polizia obiettivo c accedi ai server della polizia eh un viaggio rapido dove lo potremmo fare? eh no c'entra la mappa nemmeno da qua quindi mi sa che devo uscire? sì quindi questo non è anche qua forse è qua aspetta forse è qua sì quindi per esempio per trovare maschina dobbiamo accedere a questi server della polizia ci siamo da parentesi anche vicino però attenzione perché non ho capito bene ricordi che hanno raddoppiato la sorveglianza dei commissariati dopo l'assassinio di Love trovi un modo per intrupolarsi in un visto altrimenti non raggiungerà mai la sala ho capito grazie ah quindi non ci devono vedere quei due là diciamo che ce li possiamo fregare questo sta solo solo detto qua allora mi faremo un attimo a questo nella speranza che non so come come lo abbia fatto a vederci eh comunque l'importante è che non ce l'ha visto poi qua mi pare che c'era un cecchino eh sì quindi adesso ci freghiamo un attimo a questo ok questi sono quelli più infamie attenzione ok allora là ce ne stanno due quindi se riesco a fregarmelo un attimo così eccolo qua vai ok vediamo se la facciamo di qua vai veloce rapido 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 vai e così ci freghiamo anche a quell'altro perfetto mi raccomando non ti girare fa il bravo bambino giati sempre da quella parte lì e così eh zuppa te allora sono rimasti in tre 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 invece proprio di sì quelli che mi potrebbero dare più fastidio sono proprio quelli che stanno insieme perché questo qui lo dovremo tranquillamente fregare ok infatti abbiamo fregato allora vediamo un po' se riesco a saltare un attimo qua sopra poi magari ci lanciamo una bombetta ma ne erano ah no sono rimasti da solo ah vabbè io pensavo non ho capito come abbiamo fatto dare quel cazzotto comunque l'importante è che possiamo entrare adesso vai che cosa strana secondo me era un bug ok siamo dentro che pavimentazione schiacchi vado di qua questo si rompe sì allora vediamo un po' dove sta il coso per attivare era è questo sì il gel esplosivo scusate non mi ricordo mai come si fa a farlo esplodere ma porca di quella ok allora quello non ho capito mai solo è che non fa gioco di squadra già come si aspetta che sopravviviamo con la nostra parte qualcuno dovrebbe dargli una lezione che sta scendendo non sarà affatto facile ma per accedere al database criminale nazionale devo trovare la stanza del server senza farmi scoprire sì ma perché è scesa non ha capito c'è all'improvviso vabbè ah abbiamo un potenziamento e ce lo becchiamo abbiamo appunto allora io accetto sempre il vostro fantastico consiglio e quindi resistenza aggiuntiva contro spare alla tuta anche se entriamo potremmo fare questo mi diciamo resistenza contro gli attacchi in mischia mettiamo questo perché vedo che la gente sta sparando un po' di meno e siamo forse un pochettino più bravi con lo sparo una favola ok di qua dovremmo andare tranquillamente ce la facciamo stacca l'impossibile ma stacca sai quanti dolori di reumatismi che ha ok è un uomo o una donna un uomo o una donna non so se è solo nessuno oh se ce ne sono fornitabili è così brutale parte del mestiere sono corrotti fino al midollo e mi sono d'incralcio forse in lei rivedrei la mia tattica non può sapere quando potrebbe aver bisogno del loro aiuto in ogni caso il suo obiettivo è la sala server del commissariato l'ho segnata sulla mappa eh ma sono 150 mila qua dentro non c'è neanche un altro appiglio raga li dobbiamo affrontare tutti quanti che meraviglia è il nostro uomo ci mettiamo tre li abbiamo fatti fuori così in un battibaleno solo che là dentro ce ne stanno tre miliardi e mezzo aspetta che forse qua riesco a fare qualcosa questo non ho capito cosa sia allora aspettate un attimo perché io non credo che sia sempre così banale che entriamo e ammazziamo tutti dai prova di qua vediamo ok è banale dobbiamo entrare e dobbiamo ammazzare tutti porta chiusa non posso accedere a porte come queste con il sequenziatore criptografico devo trovare un altro modo ah ok neanche di qua si passa perfetto tutte chiuse perfetto vai allora mi serve il rampino così vai dicevo io forse magari potevamo fare una cosa un po' più tattica e invece vabbè però adesso ci deve fare un fantastico schiaffo ma possibilità contro così tanti uomini armati ah l'artiglio remoto di deathstroke posso passargli sopra senza farmi notare ok ok penso che possiamo andare no perfetto vai solo che dove devo andare credo di là oh ok per chi di voi è stato registrato in matica significa andare in pensione sui penso che vado di là basta così abbiamo solo questa notte sì da qua ce la faccio eh te pareva aspetta che mi serve il corso remoto là è questo eh eh facciamo un free attenzione questi continuano a parlare speriamo che non ci schiavano servì servietutela 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 che stava scritto servietutela eh tutela ah ok ah ok uno scheletro nell'armadio ce lo mettiamo noi di ascolti ma ti vuoi mai scagliare l'estintore verso il wolf ok ok una piccola rivolta proprio qui al commissariato farò la figura dell'incompetente giusto? l'idea mi piace cosa dobbiamo cosa dobbiamo? fammi riflettere mafman segnaliamo porca paletta ragazzi che figata dai attenzione ti serve l'educazione civica no non mi serve l'educazione civica ah sta ancora tu sai raga però mi vedo un pochettino stanche vai ma miseria mi stavo ammazzando a quello mi devi rompere le scatole sempre dappertutto dammi spazio amico avanti la cosa mi ha un po' destabilizzato si può entrare oh ma una porta aperta non ci sta niente tutte chiuse stanno queste porte ma porca paletta porca tutto chiuso tutto chiuso vai vediamo se da qua possiamo passare sa fa allora cosa fa questo tuo disturbatore? un po' di questo un po' di quello ma più che altro non di nuovo ok penso dobbiamo interrogare yes parla o non andrai da nessuna parte parla babbo ganale no no dovrei dirtene quattro per come mi hai gettato da quel tetto e invece mi dirai come funziona questo disturbatore chiedi agli spirri ce l'hanno nel deposito delle prove che ne dici vogliamo andarne a parlare sul tetto ok ok hai vinto inceppa le armi sblocca le serrature elettroniche va bene ora mi lascerai andare come era finita per te l'ultima volta che l'abbiamo lasciato andare ok quindi anche questo l'abbiamo recuperato fammi capire se magari riesco a beccare questo ci può servire no è la vigilante perfetto quindi mi sa che esco da qua vai attenzione che non ho capito se c'è gente di qua non c'è nessuno vabbè quindi prima o poi qualcuno aspetta di qua no no vabbè vai allora c'è un ingresso da sopra vedete si allora questi qua entrini su e son parecchi però aspetta un attimo voglio fare un attimo una cosa a questo punto voglio fare una cosa un po' più intelligente guardate vai così vai e però no io l'avevo beccata qui perché non mi usa mai mazza che bossa che abbiamo fatto e va bene, va bene palo sempre sto fatto che mi beccai da vicino anche questo non ha beccato è sicuramente molto meno meno reattiva perfetto ok e ho difficoltà a volte con la combo perché non è molto reattivo che allarme dobbiamo ammazzare tutti quanti tutto a posto ragazzi che bravi avete pure pure di me questo è chiuso ok allora usciamo da qua si porta chiusa chiave ma va ma va anche questo è chiusa chiave passiamo di qua vai ah ci vuole il gel 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 ok ok ci siamo da questa parte abbiamo attraversato albero di natale oh doppio se non do acqua sospetto in vista porca misera pensavo che era doppio non fai niente di meglio e come fai oh perché ah stavi al bagno stavi ancora insisto ma ancora ora ce la fai barbara? andiamo sento una voce strana è una voce di una donna però aspetta si ah è barbara infatti aspetta dove va barbara? scusate è di qua ancora di qua ci siamo? il sospetto è nella vostra zona uomini perciò state attenti ahia ragazzi se non va bene ci godremo la pensione ai tropici allora qua la vita abbastanza dura eh perché sono veramente tanti anche se questo ce lo freghiamo subito eh che stanchezza eh ok quindi questo l'abbiamo fregato la c'è sta uno la c'è stanno due non dimenticherò mai la faccia di flash quando l'ho peccato con quella merce di contrabbasta il mio miglior bottino guardatemi le spalle ci hanno sgamato già secondo me eh o sbaglio allora attenzione perché se iniziano no allora se qualcuno inizia ecco di qua infatti stanno di qua tutto a posto tutto a posto tutto a posto ok allora vediamo se riesco controllate settori vai ok perfetto siamo stati bravi qua eh viva ah ma siete solo due non finirò come una specie di ritorno addosso c'è questa priorità anche ora si si chiama anche Batman porta chiusa già cerco sono avvicino Batman dai non facciamo sempre gli stessi errori forza apri ok giù giù dice dice pace vai perfetto non devi controllare il tuo settore ma lascia che ci pensino quelli della SWAT come mai non l'hai saputo brandon ha stretto un accordo con maschera non vedo l'ora il doppio io lo lo adoro il doppio ragazzi l'attacco doppio mi fa impazzire ok 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 vai oh quanti ne stiamo aprendi questi due c'è un problema eh non mi funziona la miseria c'è un problemino usano un protocollo di sicurezza che non conosco e le finestre sono in vetro rinforzate il disturbatore nel deposito delle prove può fare al caso mio che ha sentito il rumore ma va sei un genio ok ciao ragazzo ok ok alfen non riesco ad accedere al deposito delle prove mi serve una via alternativa il deposito delle prove sir secondo queste planimetrie è adiacenza a una vecchia tromba dell'ascensore a cui può accedere dall'infermeria dovrebbe riuscire a entrare da lì e lo ha aggiunto alla mappa ok abbiamo già visto questo lo possiamo dire difendi Gotham difendi Gotham ok mi chialo mi chialo attenzione com'è che non c'è nessuno mi puzza mi puzza non c'è nessuno stiamo scendendo e non c'è nessuno eh vada qua ci stanno 30.000 persone qua da sopra forse no vediamo se riusciamo ad avere un liberatemi un attacco diverso no fatemi uscire ok ok vabbè penso che a questo punto dobbiamo attaccare qualcuno eh se no la cosa non funzionerà mai là vabbè ok 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 no perché no vedi questa è ingiustizia perché doveva fare la combo che avevamo fatto e invece non me l'ha fatta fare eh vedi ma non funziona il contrattacco ma non è in sera ma non funziona il contrattacco ma non è in sera e vedi non funziona il contrattacco perché ok qua l'abbiamo perso e non so perché questo è l'ultimo vai non so quanti ce ne stanno ancora vivi eh però allora eh ma va ok qua no siamo qui per vincere forse da qua riesco a passare eh ci siamo l'infermeria ha raggiunto l'infermeria ok ora cerchi l'ingresso di un vecchio vano dell'ascensore la porterà al deposito delle prove va bene è questo lo dobbiamo rompere lo dobbiamo rompere ok vai ormai ci ricordiamo come funziona ah attenzione va questa pa aspetta che qua di qua devo andare perché di qua non posso andare penso no che non c'ho dovrebbe funzionare no non c'ho niente quindi vado di qua per forza e no è costante il flusso ok non so se a questo punto stiamo andando bene o stiamo sbagliando forse con l'aggancio ce la faccio vero no forse di qua così ok perfetto ci siamo non sto capendo una mazza non sto capendo ehm lanciamo anche questo e vediamo no qua lato lato dentro c'è una valigetta però eh dobbiamo trovare un modo per entrare col vattrango da là dentro anche se qua c'è qualche altra cosa vediamo un po' ok il disturbatore l'abbiamo trovato però mi guarderei alle spalle ora dovrei riuscire a bypassare la protezione della porta della sala server ok quindi con questo riusciamo a risolvere? perfetto quindi mo' torniamo completamente indietro vabbè ehm proviamo torniamo indietro a questo punto mi sa di si quindi riscendo di qua un'altra volta abbiamo anche il potenziamento da parente si aspetta un attimo così lo attuviamo e sicuramente mi vado a becchiare questo perchè così quando ci sparano siamo almeno un pochettino più forti vai ammazza quanto stiamo scendendo ecco ti sei spaccato il cranio? no allora di qua no di qua no ok vai vai ti sei incartato Batman? non cammini più adesso vai allora dove vado? di qua? si ops c'è un problema l'unico modo per passare è usare il disturbo ai tuoi qua non ha funzionato? ha funzionato penso ok no forse così aspetta ora ok adesso lo posso sbloccare vai dai che dobbiamo combattere anche ora chiusura chiusura vai che fantasia sembrano tutti normali ok come l'ho detto che c'è quello che è tutto giallino? che c'è quello che è tutto giallino? tiriamo così ok ok taglia taglia ma che prendi ma che prendi no no non è possibile che una volta funziona due volte funziona poi non funziona più vediamo un po' che adesso ce la faccio niente non ho capito che cavolo ha fatto comunque non fa niente eh preghiamoci un attimo a questo e finiamo è sicuramente un po' più lento eh rispetto agli altri però che? che cosa? quella è la strada che sta tremando server 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 io penso che dobbiamo andare a cena di qua eh no di qua di qua vai perché secondo me dobbiamo ritornare indietro come sta? bene? va bene chiama il gotham general lo portiamo dentro è stato un cattivune allora vediamo un po' se almeno dalla mappa riusciamo a capire no di qua secondo me vai di qua dobbiamo andare secondo me ok si dovrebbe essere qua e poi a sinistra si si quindi adesso non dovremmo avere problemi vai fantastico no devo attivare il coso che mi taglia il disturbo penso eh si allora quindi aspetta non ho premuto questo perché mi fai vai oh ok perfetto adesso dovrebbe funzionare vai pardon ce l'avevamo dimenticati un piccolo particolare anche se non è che funziona tanto bene eh eh allora adesso è più difficile nel tempo però è questa cosa ci siamo ragazzi tranquilla devo accedere al database criminale nazionale si trova qui come è giovane devi passare molto tempo qui ecco quell'affare bypassa del tutto la protezione di rete si si è abbassata molto la luce una ragazza che conosce queste cose rischia di finire il prossimo video passano sotto l'edificio che cosa i cavi del telefono ci puoi arrivare dalle fogne aspetta perché stai facendo questo perché ho fatto una promessa da nessuno abbiamo conosciuto anche barbara ragazzi Sai che è meglio che stare mai Batman E anche c'è la mente Vai viaggiare Ma prima devo accedere al server da remoto Devo inserirmi nei cavi delle comunicazioni Sotto la centrale di polizia Dovrebbe essere in grado di raggiungerli Passando per i fogli sotto l'edificio Le indicherò l'ingresso più vicino sulla mappa Signore L'uomo del pinguino ha detto Che il disturbatore può inceppare le armi Ok veramente Ok Ok basta capito Facciamo così che facciamo prima Ok Perché così riesco Almeno A breccarne Uno Ok Così Cosa quell'arma Baldo giovane Ti fai male Ora è mio Ok Ok Ancora è preso sto coso Ok Prima o poi Rimpotere Prima o poi Ho bisogno Adondevamo Adondevamo Vai Ancora Vai Apriamo Oh avremmo aperto una cosa Come una trentina di porte Ci siamo fuori? Perfetto Di qua Di qua Forse siamo fuori La luce Just in time Ragazzi fate bravi che poi mi fate male Mi sei ferito Batman? Ah no è l'ombra Pensavo che ti avessero ciaccato E invece niente Ci siamo Con questa Voglio farti del male Non devi più intralciarmi Mai Senti Sono dalla tua parte Il volume è molto più basso La mia parte è soltanto la legge La mia parte non lascia sospetti con le ossa rotte senza detti Gotham ora ci rispetta Se questo fosse il mio Non si può Guarda via dalla linea di nero Non sparate Si muove Atterrate Non puoi scapparci Levati Gordon Lo faccio fuori Quando sono pochi Siamo fortissimi ragazzi Eh commissario adesso che dici? Me ne scappo di qua? No Me ne scappo da solo di qua Pensavo ci potessi parlare Di un commissario Invece il mio detentente Sir Le ho evidenziato un tombino sulla mappa Quei condotti portano direttamente sotto il commissariato Bel lavoro Alfred Eh Sir Cerchi di stare lontano da quella Sforcizia Ricordi chi dovrà lavare la sua tuta Ok sicuramente È stato un episodio Penso Aspettate Ciao Barbara Sono entrata nelle tue comunicazioni Ma mi serve un favore Sono sparite delle casse dal magazzino delle prove Materiale militare Ma nessuno qui muove un dito Ti sto inviando i loro dati di localizzazione GPS Usa il disturbatore armi sulle casse che trovi Friggerà tutti i circuiti Renderà inutilizzabile il contenuto E vabbè però così non vale Stavamo parlando con Barbara Raga Ok ragazzi È stato un episodio Sempre stupefacente Perché abbiamo praticamente incontrato anche Barbara Mi fa sempre un certo effetto Rincontrare poi persone più giovani naturalmente Anche questa parte termina qui Naturalmente come va stato Vi invito come se ne mette Poi c'è in su un bel commento E un bel mi piace Ci vediamo al prossimo video Bye Ciao